Giovedì 14 novembre, buona giornata a tutti dalla redazione di Udinese TV, la nostra prima diretta del mattino è pronta ad incominciare come al solito tra le prime pagine dei quotidiani nazionali e locali, lo sport, il meteo, il traffico, i primi aggiornamenti di giornata e a proposito di aggiornamenti doveroso dopo l'ondata di maltempo che si è esaurita nella notte ma che è stato annunciato riprenderà dal pomeriggio, dalla serata di oggi e poi per tutto il fine settimana andiamo a dare un'occhiata a come si sta risvegliando il Friuli Venezia Giulia dalla neve delle montagne, qui siamo in piazza Unità a Tarvisio dove si sono accumulati una circa 10-15 cm di neve nel fondo valle e ben 70-80 in quota e poi ci spostiamo invece sul Friuli centrale con questi sprazzi di luce e di sole che sta per sorgere, ce l'ho finalmente di nuovo azzurro così come azzurro dietro le cime delle vette delle Alpi Giulie, in questo caso vedete una immagine davvero suggestiva. Allora andiamo a farci raccontare, dopo anche questa istantanea della costa di Trieste, quali sono le previsioni di giornata dalla nostra Elisa Febbo. Ben ritrovati alle previsioni meteo del Friuli Venezia Giulia di giovedì 14 novembre. Cielo variabile comprobabili maggiori scherite sui monti in quota, maggiore nuvolosità invece sarà possibile sull'alta pianura e sulla fascia pedemontana. Possibili foschie in pianura nelle ore notturne il lieve Borino invece sulla costa. Temperature. Sulla costa le minime saranno comprese fra gli 8 e i 12 gradi, le massime fra i 12 e i 15 gradi. In pianura le minime saranno comprese fra i 6 e i 9 gradi, le massime tra i 12 e i 15 gradi. A 1000 metri 3 gradi a 2000 metri meno 2 gradi. Grazie a tutti e a domani con le previsioni meteo. Dal meteo alla situazione della viabilità ci spostiamo sul sito infoviaggiando per la situazione in tempo reale del traffico. Al momento non ci sono particolari criticità lungo la tratta della A4 tra Trieste e Porto Gruaro, con suetti restringimenti per lavori e cantieri sia all'altezza di Duino sia nel tratto di A23 che da Udine Sud porta a Palmanova e tra Udine Sud e Udine Nord. Ricordiamo anche che sul sito infoviaggiando ci sono gli alert per le chiusure nel fine settimana, sempre per lavori inerenti alla terza corsia. Nessun problema sulla A28 così come sulla A23 e la A34. Lasciamo anche il traffico e siamo pronti ad andare sulle prime pagine dei quotidiani nazionali dove campeggia la devastazione di Venezia con l'acqua alta che ha danneggiato irreparabilmente molti dei luoghi simbolo della città lagunare. C'è stato anche un morto a Pellestrina, un disastro che ha visto l'alta marea salire fino a 186 centimetri. Ieri in serata è arrivato il premier Conte a visionare di persona quanto accaduto, c'è l'appello disperato del sindaco Brugnaro, del governatore del Veneto Zaia di intervenire. Servono fondi per sistemare quanto è andato distrutto con l'acqua alta. Allora andiamo sull'apertura del Corriere della Sera che propone una foto emblematica, quella delle cripte della Basilica di San Marco a Lagate. Venezia in difesa sott'acqua, questo è il titolo dell'apertura. A un passo dall'apocalisse, timori per la Basilica, Conte una situazione grave, due morti, danni per centinaia di milioni, polemica sulle barriere del Mose, il sindaco va attivata in gioco la credibilità dell'Italia. L'altro tema di discussione nella politica italiana ancora l'ILVA, il governo sonda nuovi soci, oggi ci sarà ancora una riunione nel Consiglio dei Ministri e potrebbero arrivare nuove decisioni. Per quanto riguarda gli esteri c'è il processo a Trump, lo show al Congresso americano. Dalla Corriere della Sera andiamo al Sole 24 ore, l'apertura Venezia 7 miliardi e il Mose non c'è, si fa i conti rispetto al sistema delle paratie che non è stato ancora attivato, nonostante se ne parli da anni e anni si siano spesi miliardi e miliardi, eppure non sono ancora in funzione e l'acqua alta è tornata ad invadere le calli veneziane. A centropagina ancora l'ILVA, aperto filo diretto Conte e Mittal, la crisi dell'acciaio con la linea del Premier che passa e i 5 Stelle che cercano un intervento per far valere le loro ragioni. Andiamo su Repubblica, il titolo SOS Venezia sommersa, altro allarme nella notte, San Marco ferita, cripta inondata, il procuratore colonne usurate, siamo a un passo dall'apocalisse. Un miliardo, i danni, isole al buio, opere d'arte a rischio, shock nel mondo, il Premier Conte, emergenza nazionale, le cause e i ritardi, l'acqua alta, un fenomeno sempre più frequente, abituiamoci al meteo estremo. L'intervista, sempre sul tema Venezia, a Luca Di Michelis che dice siamo un porto vivo, non un monumento, e poi la barriera che non c'è, quei 200 milioni persi nella burocrazia che fermano il MOSE. C'è anche l'analisi di Sergio Rizzo, le colpe del clima e le nostre. Da Repubblica ci trasferiamo sul fatto quotidiano. Le mazzette non assorbono l'acqua alta, Venezia dopo 31 anni e 6 miliardi buttati via in sprechi e corruzioni, il MOSE non funziona e la città affoga. Di Taglio Alto viaggio nel caos dei Cinque Stelle, scampate la trappola Ilva, chi sale, chi scende, chi sta con chi, il quadro del movimento grillino. E poi la svolta, la forzista Comi, indagata e mediatrice d'affari suoi. Un'inchiesta a Milano su Tangentopoli 2. Intervista anche a Giorgia Meloni, al governo Saradura, a sparare le grosse si fallisce. Dalla Fatto Quotidiano andiamo sulla stampa che ci propone un'altra foto che ieri ha fatto il giro del mondo, quella del vaporetto incagliato su una delle calli. Venezia sommersa dalle onde, allagato l'80% dell'abitato della città, danni per centinaia di milioni, conte completare il MOSE. Verosimilmente nella notte, ha detto il Premier, nel 2022, ma a forza di annunci si è persa anche la fiducia. E poi l'intervista a Zingaretti, il segretario del PD, Renzi aiuta Salvini, se piccona il PD. Dalla stampa andiamo su Libero, che invece apre con l'Ilva, che chiude, vince il Movimento 5 Stelle, Venezia nega, c'è chi ride, due disastri in pochi giorni, ci mettono KO. Gli indiani mollano l'acciaieria, gli stipendi non arrivano, Di Maio e Conte se ne infischiano, la qualta fa milioni di danni, ambientalisti e grillini ne approfittano per incolpare la Lega. A centropagina, lo show TV 8 e mezzo, con la grubere meloni che s'azzannano e lotta contro la destra, scrive Libero. E poi la Boldrini scatenata, pretende sconti sugli assorbenti. Da Libero andiamo sulla verità, che apre con l'audio, l'appello di Mif Sud. Aiuto, fatemi tornare a vivere. Si infittisce il pasticcio dell'uomo più ricercato dagli 007 americani. Dopo lo scoop della verità arriva una registrazione, il professore Maltese, non sono una spia e scagiona la link, però poi fa capire di non essere libero, chi può mi faccia respirare. Il legale non è la sua voce, il nostro collaboratore l'ha conosciuto da vicino e lui, maltono, è strano. A centropagina, lavoro e voto subito agli immigrati, in aula la legge per avere nuovi schiavi. Sbarca in Parlamento il testo voluto e finanziato da Soros con l'ok di molti PD e 5 stelle. Ancora con la nostra carrellata di prime pagine quotidiane, con il foglio che a centropagina propone una riflessione su Venezia. No, a Venezia non è impazzito il clima, è impazzito lo Stato. Acqua alta, ma non solo, nel capologo Veneto l'emergenza non è legata al cambiamento climatico. Ricordate il 66, sì, ma è legata a una burocrazia che ha provato per troppo tempo a spacciare le sue inefficienze per splendide virtù, perché il Mose è la nuova Ilva. Dal foglio andiamo sul manifesto che apre con questa foto di una Venezia notturna in piazza San Marco allagata. Come triste Venezia, la notte apocalittica della città lagunare sommersa dall'alta marea a livello dell'acqua che sfiora i due metri, mai così dal 66. Danni incalcolabili, una vittima, polemiche sul Mose, la grande opera non ancora finita ma inutile a contrastare gli eventi estremi causati dall'emergenza climatica. Bombe su Gaza, 26 palestinesi uccisi, Netanyahu salva se stesso, Israele verso un governo di unità. E poi l'Exilva, i 5 Stelle aprono la scudo per Mittal, si pensa a un decreto a tempo. Chiudiamo con il giornale, la prima pagina, chi annega Venezia, la tragedia dei no. Ecologisti, sinistra e magistrati hanno rallentato il Mose e ora piangono dopo Tave e Ilva un'altra emergenza per il governo della decrescita. L'80% della città sott'acqua, danni incalcolabili. Nordio, l'ex magistrato che dice ci sono stati reati, fermare l'opera ora è follia. E poi la proposta a un'autority che tuteli il patrimonio e le belle arti, così scrive Vittorio Sgarbi. Una tragedia galoppante ha tentato la nostra cività, una profezia di Indro Montanelli che viene riproposta oggi dal giornale. E poi ricordo nel 66, qui salvavo i libri, nessuno ha salvato la città, a scriverlo Stefano Zecchi. Chiudiamo questa prima parte con i quotidiani nazionali, andiamo sui quotidiani di casa nostra perché il maltempo ha colpito anche le coste del Veneto orientale, del Friuli Venezia Giulia da Trieste a Grado, passando per Muggia e Lignano e il messaggero apre proprio con un'immagine di Lignano, ve l'abbiamo mostrata ieri durante le nostre dirette del mattino, proprio dalla località balneare Friulana. Il faro rosso che lo vedete ha visto il proprio puntile spazzato via dalla forza delle onde di quest'alta marea che appunto su Lignano ha toccato il record storico di 1,73 mentre a Grado si è spinta ancora oltre 1,80. Scuole chiuse a Grado e ad Aquileia, la qualta porta via le spiagge, tanti danni, l'erosione e poi ancora allagamenti di scantinati, garage, l'alerta meteo proseguirà fino ad oggi alle 12, intanto la regione ha chiesto lo stato di emergenza e la protezione civile con le sue squadre ha dato supporto ai vari comuni colpiti. In 24 ore sono caduti tra gli 80 e i 100 mm di pioggia sulle prealpi, tra i 50 e gli 80 nella zona montana, tra i 30 e i 50 in pianura. Sempre la cronaca nell'apertura del messaggero, la tragedia di Pagnacco esce di strada con l'auto, mora 55 anni, la vittima Michele Nigris, 55 anni appunto, residente a Vito d'Asio ma originario di Carniacco e proprio nella località alle porte di Udine era andato a trovare i parenti prima della tragedia. Andiamo all'interno proprio per approfondire le pagine dedicate all'alluvione in Friuli, bassa flagellata da vento e mareggiate, l'acqua si mangia a mezza spiaggia, distrutto il pontile del faro rosso, inondazioni da Lignano a Grado, oggi arriva il capo della protezione civile Borrelli. Nella città balneare è registrata un'alta marea, dicevamo, da record, con il picco a 1,73, a Marano, casoni sventrati, l'alerta proseguirà fino a stamattina. Fiumi esondati e casa allagate, neve a Tarvisio, questa invece è la situazione in montagna. La regione con il governatore Fedriga ha chiesto lo stato di emergenza, i più colpiti sono i privati, infatti dopo le prime verifiche il presidente e vice chiedono il sostegno del governo, danni ingenti anche a patrimonio pubblico, infrastrutture e natanti. Sotto osservazione a quella di Elatisane, in attesa di un nuovo fronte di perturbazioni. Sono state tante le chiamate all'1-1-2, impegnati 100 volontari con oltre 40 mezzi. E ancora, scorrendo le pagine del messaggero, altre immagini, quella di Trieste, piazza Unità, in versione natalizia ma allagata, e poi ancora i danni anche sul litorale Veneto, a Bibione, a Caorle, a Jesolo. L'ovato della G di Grado dice il fenomeno è diventato ordinario, l'errore è attendere che accada. E ancora ad aprile a Marittima, la prima volta in 45 anni che l'acqua ha invaso gli scantinati e le case a causa proprio dell'alta marea, mista allo scirocco. I lavori rallentati in A4, ma dicevamo il cantiere prosegue, la chiusura di San Giorgio prevista per stanotte, mentre per quanto riguarda Udine c'è una scolaresca, una classe del Marinoni che è stata rispedita a casa, era diretta alla Biennale di Venezia. Ma abbiamo visto quanto è accaduto proprio nella città lagunare. E proprio lì torniamo con il gazzettino che dedica ampie pagine a quanto successo. Si apre con il titolo Venezia umiliata, la foto è quella del sindaco Luigi Brugnaro e del patriarca Moraglia. 187 è la cifra dei centimetri del livello record della marea registrato martedì. Nella 66, anno della drammatica acqua alta, fu di 194 centimetri. Una Venezia umiliata dunque, colpita, affondata un'altra volta dall'acqua alta. C'è un morto a Pellestrina, case, locali, negozi sommersi, la visita del Premier Conte, la situazione drammatica, Brugnaro, centinaia di milioni di danni, zaia e emergenza. E all'interno, sfogliando le pagine, ci sono altre foto, altre immagini della città. 12 novembre, l'apocalisse della città sommersa. Tutto chiuso, un risveglio nella morsa dell'acqua, non si trova nemmeno un panino, la devastazione della Basilica, luogo simbolo, invasa la cripta, danni alle tombe dei patriarchi. Questo è anche il livello delle maree. Una tempesta perfetta a causa di un piccolo ciclone, dice Alvise Papa, al responsabile del centro maree di Venezia. Tradita dal blackout, Pellestrina piange una morte assurda. Allora, questo signore 7010 ha cercato di staccare una spina ed è rimasto folgorato. Sull'isola le pompe idrauliche si sono bloccate e le onde hanno invaso le case. Ancora con le parole della politica al governatore del Veneto, zaia. Qui si rischia un'alluvione simile a quella del 2010. L'allarme del governatore, ci sono le stesse condizioni metodi all'ora. La commozione del sindaco Brugnaro, danni ingenti per centinaia di milioni. Moraglia, il patriarca, dice Venezia, non può diventare un'altra taranto. Dalle pagine del gazzettino andiamo in Friuli, dove si ripropone il tema del maltempo, verificatosi sul nostro territorio. La mareggiata, l'Ignano in ginocchio. Il mare si è mangiato tonnellate di sabbia. L'acqua è arrivata nelle case e in molti negozi chiusi causando parecchi danni. La forza delle onde ha rotto in vari punti il pontile del faro. La vecchia d'Arsina è finita sotto. Soccorse, cinque persone. Le altre notizie invece sulla prima del gazzettino. La politica regionale, ieri il primo giorno di discussione sulla riforma degli enti locali, ritorno alle province, battaglia. In consiglio un clima incandescente in aula con le opposizioni che attaccano. La nuova riforma degli enti locali è prevista per la giornata odierna. La votazione finale sul provvedimento proposto dall'assessore Roberti. Udine raccolta firme per salvare la cascina Mauroner. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi con la decisione di bonificare l'area su richiesta dei cittadini. Ma c'è questa raccolta che chiede di bloccare la demolizione. Sul fronte politico c'è Ferruccio Saro che va all'attacco. Un congresso decida la linea. Questo per le tensioni che si stanno vivendo all'interno di progetto FWG e la creatura di Bini e Saro con lo stesso Bini che nei giorni scorsi ha dato una specie di sfratto a Saro per le continue punzecchiature al governatore Federica, la sua maggioranza. Andiamo all'interno delle pagine del gazzettino del Friuli per approfondire proprio la discussione sulla riforma negli enti locali. Le comunità accendono il Consiglio clima incandescente con le opposizioni che attaccano il disegno della riforma che organizza le nuove associazioni tra comuni. Dal PD l'attacco più duro, saranno peggiori delle uti, il Presidente replica, daremo più dignità ai sindaci. Capo Zella del Movimento 5 Stelle dice un provvedimento monco che non corregge gli errori del passato. Continuando a sfogliare le pagine, ci spostiamo nella sezione dedicata alla destra a tagliamento, un caso di cronaca che arriva da Polcenigo, un podista che violenta l'ex fidanzata durante una corsa di allenamento. L'aggressione a Polcenigo, la Procura tiene un divieto di avvicinamento alla parte offesa. Il 47enne è di Brugnera, deve stare lontano, 500 metri dalla vittima e non può mettersi in contatto con lei. I carabinieri hanno individuato una testimone che ha assistito alla scena e sentito la donna gridare. Sempre per quanto riguarda l'estratta a tagliamento, l'incidente è verificatosi a Pagnacoma che ha visto vittima. Un uomo di Vito d'Asio con l'auto nel fosso, muore a 56 anni, non ce l'ha fatta, Michele Nigris, coinvolto nell'incidente martedì notte, è deceduto all'arrivo in ospedale. L'ex dipendente del Consorzio Idraulico Udinese si era trasferito in Val d'Arzino da qualche mese, località che amava da tempo. A proposito della destratta a tagliamento, andiamo sulle pagine pordenonesi del Messaggero Veneto con l'apertura del dorso cittadino. C'è l'area del Sacro Cuore, soffocata dal traffico del nuovo ospedale, SOS dei residenti, prigionieri del cantiere e delle auto. Sindaco Assessori cercano contro misure. La preoccupazione è il nuovo accesso, peggiorerà la situazione. Terminato il cantiere, infatti, l'area dell'attuale ingresso sarà usata come posteggio. In via Montini arrivano segnalazioni di modifiche pericolose, sempre sul fronte viabilità. Per quanto riguarda poi Pordenone, un'altra notizia di cronaca che vi abbiamo dato ieri con due ladri, taccheggiatori, che ludevano l'antitaccheggio con alcuni dispositivi elettrici ad impulsi. Si tratta di una coppia tedesca. Nell'auto in cui viaggiavano sono stati trovati proprio questi dispositivi per disinnescare gli antifurto. Per quanto riguarda poi la provincia di Pordenone, c'è anche questa notizia che vi proponiamo da Porcia. Il ministero ravvincola il castelliere. Si tratta del complesso di Santa Sabina, che risale da almeno 3.000 anni fa, ha un grande interesse archeologico. Andiamo ora sulle pagine del piccolo di Gorizia per dare un'occhiata all'Isontino, il piccolo che apre con grado sott'acqua, danni ingenti, negozi allagati e scuole chiuse. Questa è un'immagine proprio dell'Isola d'Oro, con la gente e gli stivali e l'acqua che ha invaso le callette. Sommersi anche le rive a Trieste. Deve è stata la spiaggia di Marina Iulia, coperta da detriti. E questa è proprio un'istantanea della spiaggia monfalconese, che ricorderete vi abbiamo raccontato questa estate, durante Udinius on the beach. E poi le altre notizie che arrivano dal territorio Isontino, ce ne siamo occupati ieri anche nel nostro Tg, il caso della mensa di una scuola di Cormons, alunni intossicati, analisi sul cibo. I genitori vogliono fare chiarezza, ma come ci ha spiegato ieri l'assessore comunale all'istruzione di Cormons, non si dovrebbe trattare di un'intossicazione alimentare, ma bensì di una influenza virale che ha colpito solo una parte degli alunni della scuola e non tutte le classi. Andiamo sulle pagine di Gorizia del piccolo, infiltrazioni crepe e tegole che si staccano, allarme rosso nella sede della Questura. Una situazione sempre più precaria, il trasferimento nel palazzo di Piazza San Francesco, slitta ancora con il Siulpi, il sindacato che va giù duro. Vedete proprio questa immagine emblematica. Si lavora tra i ponteggi all'interno delle stanze del palazzo di Gorizia. Sempre dalla città esontina, con la cronaca, un furgone che si cappotta in via Scogli, l'anziana finisce all'ospedale. Dalle pagine di Gorizia, scorriamo e troviamo anche il caso Mensa, come dicevamo, a Cormons. Analisi sul cibo per chiarire le cause, il Comune annuncia di voler procedere a tutti gli approfondimenti necessari, l'uscita da scuola. Molti genitori chiedono chiarezza perché sono disorientati. Il sindaco Felcaro, qualità dei pasti, igiene dei locali, sempre monitorati. Lasciamo le pagine di cronaca e siamo pronti ad aprire la nostra pagina sportiva con le prime nazionali di sport. Si avvicina il momento della nazionale, con il campionato è fermo, ma sono molte le polemiche che tengono banco. A centro pagina la gazzetta apre con CR7 Porto Giallo. Perché? Perché il CT portoghese è pronto a giocare, dice, sul calciatore della Juventus, ma c'è il Rebus ginocchio e la Juve proprio rimane in ansia. Cristiano ritrova il sorriso oggi in campo contro la Lituania, ma per i bianconeri ha bisogno di riposo per tornare al top. Di taglio alto c'è Pelé, vado a mille, dice, quel rigore, trappe nei mar, Messi l'avrei voluto con me. Un'esclusiva, orei si racconta la gazzetta, 50 anni dopo il suo millesimo gol e svela diverse curiosità. Di taglio basso, Inter, ecco perché Giroud è un'occasione, Nerazzurri a caccia del vice Lukaku. Il piano per Ibra, c'è il tesoro Milan, Zlatan annuncia l'addio ai Galaxy, il sogno dei rossoneri per gennaio. A tutto Giulini, Cagliari umile e incosciente, Raja come Riva, l'intervista al presidente dei Sardi. E ancora un'altra intervista, vi racconto, Kumbulla ha una marcia in più. C'è il difensore albanese del Verona che viene messo ai raggi X. Dalla gazzetta dello sport al tutto sport, ansia CR7, stasera Portogallo-Lituania. Sfida decisiva per la qualificazione Euro 2020, il CD Santos dice che Ronaldo sta bene e gioca, ma la Juve c'è fibrillazione per il suo ginocchio. Sul mercato, Mandzukic chiede subito allo United. Torino manifesto, lock di Pulici e Pecci, i due eroi dello squedetto Granata del 76, appoggiano le richieste di tutto sport a Cairo. Milan pro e contro del piano Ancelotti, il tecnico garante di un progetto ambizioso, però occhio ai precedenti negativi di Sacchi e Capello. I ragazzi del 2002, tesoro di Conte, una miniera d'oro per l'Inter, non solo Esposito, ecco gli altri gioielli, da Augumet a Pirola, a Oristanio. E poi ancora le altre notizie, ciclismo in lutto, Pulidora, addio all'eroe del Tour mai in giallo, Eurobasket, imitiamo le ragazze del calcio, l'Italia, Repubblica cieca, la sfida di oggi. Andiamo sul Corriere dello Sport, anche in questo caso c'è Cristiano Ronaldo in copertina, subito in campo, contro la Lituania, a soli quattro giorni dal caso sostituzione e alla Juve, il nuovo Dybala lo incalza. Il mondo del calcio discute sulla forma di CR7, è in calo o può ancora tornare al top, intanto Superpaolo torna a candidarsi per diventare titolare. Lazio da sogno, buffo un unico, stracosce in esclusiva, Tirana nello stadio dell'addio di mio padre. Milan nella rete di Raio, la dopodonna Rumma, Romagnoli e Bonaventura, anche Suso col mega agente. Razzismo social, squalificato Bernardo, il portoghese del City fermato per un turno e multato per un tweet. E poi, Wenger dice basta, va alla FIFA, l'ex allenatore dell'Arsenal, lascia la panchina e intraprende la carriera dirigenziare. C'è poi questa foto, curiosa, parla di una barriera raddoppiata e le donne fanno scuola. Da uno schema della Bertolini, un'idea che può essere ripresa. E vedete dunque, tre giocatori davanti, tre giocatori dietro la difesa e poi il calciatore al tiro. Vedremo se ci sarà seguito per questa idea di campo che arriva dal calcio femminile. Andiamo sulle pagine sportive di casa nostra per parlare di Udinese, un Udinese che ieri ha ripreso gli allenamenti in vista poi della sfida amichevole di sabato e poi della ripresa del campionato contro la Samp. L'Udinese che deve fare a meno di ben 11 nazionali e poi tra due settimane degli squalificati Okaka e Bekao, Gotti e la Samp. l'Udinese fino al prossimo giovedì non potrà contare, sono molti potenziali titolari, il tecnico anche il problema di sostituire Okaka e Bekao fermati dal giudice. Questa è la lista completa con i giocatori, il loro rientro in città, si è ralta impegnato col Cile, ho poco col Ghana, Trostecong con la Nigeria, ha giocato tra l'altro già ieri, poi c'è che insieme a con la Svezia, Amato Iaialo con la Bosnia che sfiderà l'Italia domani, Jens Truger-Larsen con la Danimarca, Rolando Van Dragola con l'Italia, Rodrigo De Poleco Amusso con l'Argentina, Ilian Estorowski in Macedonia e Seco Fofanà con la Costa d'Avorio. Il punto, dicevamo, la ripresa per la preparazione alla Bruseschi è incominciata ieri, per far numero sono stati chiamati anche alcuni giocatori della formazione primavera, tra cui Mazzolo, Kubala, Zancic, Ballarini e Battistella che hanno permesso a Lasagna e i compagni di sostenere le esercitazioni. Per oggi in programma una doppia seduta con appuntamento al mattino alle ore 11 e al pomeriggio alle ore 15. Noi naturalmente seguiremo in diretta a pomeriggio calcio. Si parla poi anche degli europei, come dicevamo, con l'Italia che ha visto, convocato Rolando Mandragola, questa è la situazione dei vari gruppi, molte qualificazioni sono ancora in bilico, non certo quella dell'Italia che a quota 24 ha già ottenuto il pass per Euro 2020. Sfiderà la Bosnia come detto domani e poi l'appuntamento la prossima settimana contro l'Armenia per l'ultima gara. Per parlare di Udinese ci trasferiamo sulle pagine del Gazzettino, andiamo a vedere altri spunti di discussione. Su Gotti si ragiona proprio sugli esperimenti d'attacco in vista della sfida con la Samp che non permetterà di utilizzare Okaka, come dicevamo, squalificato, si vuole testare la coppia Lasagna Teodorcik. Okaka squalificato, Nestorowski nazionale, i due saranno provati sabato in amichevole contro una formazione lettone, partita che vi trasmetteremo live. Pussetto, le prese con una distorsione al caviglia, rimediata prima della partita con il Genoa, ieri non si è allenato. Nel frattempo si continua a discutere anche di Mr. Gotti e Luca Lantidivo, lontano dalle luci dei social. A differenza di Oddo e di Nicola non cura l'immagine pubblica, c'è un focus sui social e sul rapporto che ha l'allenatore pontiere dei bianconeri. Vedremo dunque che cosa succederà anche sul fronte panchina nelle prossime settimane. Passaggio rapido sul Pordenone, anche la formazione di Mr. Tesser osserverà la pausa per le nazionali, poi riprenderà la prossima settimana contro il Perugia. Nel frattempo in Serie B si discute sulla VAR che potrebbe arrivare anche nella Serie Cadetta, deciderà l'Assemblea di Lega. Tra lunedì e martedì i dirigenti dei club valuteranno l'introduzione dell'occhio elettronico. Il tifoso Bolzonello dice è assolutamente necessario, basta pensare alle due espulsioni di Verona che hanno penalizzato la formazione del presidente Lovisa. Nel frattempo durante i lavori si parlerà anche di budget e le attività legate al marketing. Sul fronte formazione differenziato per Chiaretti e Barison frena Basso lì con Mr. Tesser che dovrà valutare anche il sostituto di Sasaburrai squalificato per un turno dal giudice sportivo. Ci fermiamo qui per un break, spazio ai servizi, poi ci ritroviamo alle 8 con tutti gli aggiornamenti e gli approfondimenti di giornata più tardi. Grazie a tutti.